Come si fa a valutare la bontà di una strategia per il tuo business? Dunque, questo in realtà è anche uno dei motivi per cui viaggio, cercare di valutare la bontà di quello che sto facendo. In questo momento sono in vacanza, sono in montagna, quindi sto facendo un viaggio e regolarmente io viaggio negli Stati Uniti per andare a riunioni del mio gruppo Mastermind guidato da Jeff Walker e ancora una volta quella è occasione per me di valutazione delle mie strategie. È uno dei motivi per cui lo faccio. Il punto è che quando si è troppo dentro, troppo vicini, troppo dentro a quello che si sta facendo, quando si ha il proprio business a tanto così, diventa molto difficile valutare in maniera oggettiva quello che si sta facendo. È importante essere dentro nel momento in cui si lavora, nel momento in cui si sta portando avanti un progetto, è importantissimo esserci dentro, trainare, remare, senza stare troppo a pensare ai massimi sistemi. Però arriva sempre il momento in cui bisogna un attimo uscire e valutare se ciò che si sta facendo strategicamente è la direzione corretta, se è necessario apportare un cambiamento di direzione alla propria traiettoria. Quindi è importante cercare di avere una visione di insieme. Viaggiare, staccare da quella che è la routine quotidiana di quello che si fa, è un modo estremamente efficace per uscire dal contesto, per valutare un pochino più da fuori quello che si sta facendo. Quindi per esempio io in questo momento qui sono in vacanza, sto staccando, mi sto ricaricando, però al tempo stesso ho una qualche rotellina dentro la mia testa che va avanti e dice chissà se questa strategia che sto seguendo è quella corretta, vediamolo un po' da questa distanza. Cerco di avere una vista dall'alto ed è quello che consiglio anche a te. Cerca ogni tanto il tuo business di uscire e valutarlo dall'alto, valutarlo come un sistema complessivo. E in generale questa è una cosa che puoi fare viaggiando d'accordo, staccando da quella che è la tua routine, ma lo puoi fare anche quotidianamente, praticare quella che è la vista in terza persona. Quando ti capita una qualche situazione che vuoi valutare, invece che valutarla dall'interno, da dentro di te, dal tuo punto di vista, prova a uscire, ad avere una vista da osservatore, guardare dall'esterno quello che stai facendo e valutare se quella è la strategia giusta. Quindi quando si è troppo dentro a un qualcosa che si sta facendo diventa spesso molto difficile riuscire ad avere una visione d'insieme. Viaggiare è un modo per uscire dal contesto, per cercare di avere una vista dall'alto e in generale cerca di praticare la vista in terza persona in modo tale da osservare, da essere un osservatore di ciò che fai e quindi cercare il più possibile di valutarlo in maniera obiettiva. Io sono Marco Scabia, se stai guardando questo video in qualunque luogo sul web che non sia il mio blog vai su www.marcoscabia.com, poi lasciami un commento, lasciami una qualche reazione, condividi questo post e ricorda, sempre avanti, senza mai fermarsi.